Grazie E tutti quanti insieme Teniamo fuori le porte E carichiamo il nostro capopacchino Evviva Sant'Araso Evviva Grazie Ragazzi Io è un mese che aspetto sto momento È un mese che aspetto sto giorno Che sto giorno è arrivato Siamo tutti nel sentimento? Sì Però portiamo Sant'Arasa a casa che è ora Si sanghiette posteriori sotto ciuffi di Santa Rosa a capezzale al ciuffo quinta fila ciuffi sotto quarta fila ciuffi sotto forza forza terza fila ciuffi sotto seconda fila ciuffi sotto forza forza primo fila ciuffi sotto spallette laterali sotto io non lo vedete vi raccomando eh vedo quell'occhio ancora abbonato c'è 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 sanghiette anteriori sopra forza 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 ragazzi e Santa Rosa tu c'è la testa più dentro sulla pallone la loro morte è casa forza per favore ragazzi lo so che è retorica la cosa però un po' più di un po' più di sicurezza su cortesia facchini facchini Santa Rosa evvivo Santa Rosa facchini Santa Rosa sotto la ciuffa fermi fermi tutti insieme sollevai la sveglia si è davvero bravo 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 finiscono 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 grazie Grazie a tutti.